Momenti di tensione giovedì sera a Barletta, dove nella zona residenziale di Larguariosto, nel pieno del quartiere Borgovilla, è scattato l'allarme per la presenza di un presunto ordigno inesploso. L'intera area, densamente popolata, è stata immediatamente evacuata da una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco, inviata dal comando provinciale della BAT. Traffico rallentato e regolamentato dalla polizia locale presente sul posto, mentre al centro della piazza era in corso la messa in sicurezza sotto gli occhi dei residenti che si sono riversati in strada, inviata da Bari. Anche una squadra di artificieri che, nell'analisi del presunto ordigno, ha fatto la rocambolesca scoperta l'oggetto sospetto. Non era un ordigno, ma un semplice contrappeso rudimentale utilizzato dai venditori ambulanti del mercato rionale. L'allarme è rientrato in tarda serata con i residenti di Larguariosto che hanno tirato un lungo sospiro di sollievo.